Riparte con l'artista Piero Mazzocchetti, direttore artistico, la scuola civica musicale di San Giovanni Teatino, con tante altre iniziative e novità. Un segnale forte, un servizio culturale per la città, come ci raccontano il sindaco Giorgio Di Clemente, lo stesso tenore abruzzese e l'assessore alla scuola civica Paolo Cacciagrano. In primis dico che è una gioia essere qui questa sera con Piero Mazzocchetti, che giustamente non mi stancherò mai di ringraziare per aver accettato questo incarico, per aver chiesto di guidare questa nostra scuola civica, un'istituzione che deve continuare il suo percorso e dico da oggi, come già annunciato precedentemente, si riparte, ma si riparte alla grande. Quindi dicevo, il nostro Piero che con la sua voce, con tutta se stesso, spadroneggia nei campi televisivi e quant'altro. Da oggi, ufficialmente, anche in San Giovanni Tiatino. Qui abbiamo bisogno di gente che voglia lavorare, quindi ho fiducia in lui, ho fiducia in tutto lo staff che guiderà insieme a lui questa scuola civica. Innanzitutto molto legato alla città di San Giovanni Tiatino perché l'ho così sposata, passatemi il termine, più di dieci anni fa, quando comunque individuai questa zona per ubicare la mia accademia. Questo sogno è un po' continuo perché adesso cerchiamo con semplicità, con umiltà, ma con grande passione per la musica, come diceva il sindaco amico Giorgio Di Clemente, cercare di appassionare i ragazzi, riappassionarli, farli riavvicinare alla musica, che è un linguaggio universale eccesso. E cerchiamo di farlo con semplicità perché i tempi sono quelli che sono, quindi non abbiamo obiettivi strategici entusiasmanti, no, abbiamo l'entusiasmo di riavvicinare i ragazzi, i bambini all'arte della musica. Vogliamo rilanciare il Covid, come si sa, ha bloccato il mondo e ha bloccato pure la scuola civica. Quindi dopo questo periodo di fermo obbligatorio vogliamo ripartire alla grande, ma soprattutto vogliamo ripartire allargando anche quelle che sono le funzioni e i compiti della scuola. Vogliamo essere una scuola musicale ma anche un polo culturale per il futuro.